Un forte impegno della regione Abruzzo che risale alla scorsa estate, la scorsa estate quando il presidente Marsilio ha contattato i vertici di RCS per fare in modo che l'Abruzzo potesse avere questa opportunità, l'opportunità di mostrare le sue peculiarità, le sue bellezze in mondo visione, saranno milioni e milioni gli spettatori che parteciperanno, che vedranno queste nostre tre tappe, sin dall'aspettacolare prima cronometro che si svolgerà sulla corsa dei Trabbocchi per poi andare alle tappe di Teramo Vasto e infine quella di Campo Imperatore. C'è stato un grande sforzo da parte della regione, ha investito 7 milioni di euro per permettere a città e tra queste anche Teramo di avere l'opportunità di essere palcoscenico di un grande evento. Teramo sarà un evento esclusivo, ci sarà praticamente la tappa di partenza? Teramo la tappa di partenza che è stata voluta concedere a questa città appunto per mettere in evidenza le sue peculiarità. Oltretutto la regione Abruzzo, oltre ad investire per la realizzazione di queste tappe, ha investito anche per la messa in sicurezza delle state per quei comuni e quelle province che hanno fatto richiesta. Quindi siamo stati anche di supporto alle amministrazioni comunali e alle amministrazioni provinciali per fare in modo che tutto si svolga nel miglior modo possibile. Sottisfatto dei lavori del Comune di Teramo? Ma io non so che lavori abbia fatto il Comune di Teramo, spero che abbia messo le bagnerine rose e gli strigioni per fare in modo che questa città diventi più accogliente per coloro che la vedranno.